Ciao Marco, ci risentiamo, sicuramente, il nostro socio, a presto, sempre le belle cose che io le leggo. Ciao Marco, ci risentiamo, ciao. E come vi siete conosciuti? Tanti amici con me. Lei ha chiesto il mio, anche 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 il mio. Ah, sulla rivista, sulla tua rivista. Ci dai un altro, un altro, un altro, un altro, un altro, un altro. Ecco Marco, l'esposizione di Marco Fioranti. Qui, Anna Di Fusco. Paolo Damiano, Danilo Rea. E lui abita a Roma. E quindi se tu, quando monti la cosa... Grazie. 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 Grazie.